se io con altri atleti sono attento a dargli indicazioni e non so se porto a casa realmente quello che scrivo con te il mio tema è il contrario cioè io quello che scrivo tu lo fai perfettamente anzi forse un pochettino con riserva perché lo spuntino mattutino non lo faccio ma solo perché mi alleno quindi tipo 10 e mezza minuti sono in campo ovviamente c'è un nutrizionista dell'inter che ti dà la bibita il tuo prodotto specifico sì che però io uso gli aminoacidi prima dei alimenti quello che mi che mi dei te e poi ogni tanto se lo sento bevo anche quello che se ne frega più o meno e lì magari sicuramente non ci sono dentro gli aminoacidi sono sicuro perché ha un altro metodo di lavoro e quindi sono sicuro che prendo un diverse cose invece degli aminoacidi poi magari mi mette le vitamine che io già infatti non avevo sempre che io ho già vitamina b o probiotici dentro che magari io già la mattina prendo le integriamo le integriamo già magari proprio se non ne sto prendendo da questo momento ho vitamina b vitamina c omega 3 facciamo una tabella di integrazione quindi ogni tanto lo bevo ogni tanto no anche perché ho già preso tutto quello di prima e poi al pomeriggio sì mi sono a casa mi baso sul prendo la proteina se no se ogni tanto non me la metti la proteina mi mangio un frutto che sia una mela sì più un frutto se non ho fame tiro arrivare a sera e dopo delle volte questo nel nostro percorso può creare qualche problema grazie a tutti 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 grazie a tutti